Server online, forse, riapriamo il launcher di Epic Games Sono online! Vai ragazzi! Coda di due ore e mezza, sicuro, 100% Guarda che bello il caricamento, connessione in corso Coda? 20 minuti di coda Orco Giuda! 16 minuti, ci vediamo tra 16 minuti 10 secondi! Ci siamo! Eccolo! Siamo dentro! Oddio che lobby strana, oddio, ok Calma, non vi fate prendere dalla foga Negozio oggetti Andiamo prima a inserire il codice RDTYT Pass battaglia! Ottieni il pass battaglia Signore e signori, 3, 2, 1 Compra pass battaglia E let's go! Col codice RDTYT Pass battaglia Sbloccato! Minchia che questa bella, eh Bella sta schifo Oddio quanto lagga, oddio quanto lagga, oddio che cali di frame Oh la madò, oddio ci sono quelle cose La volanti, ma lagga tantissimo il gioco Oddio la mappa! E mo? E mo dove andiamo? Cos'è sto? Madonna mia sto vortice ragazzi Ma che è sto vortice? Guarda qua che casino! Oddio quanta gente c'è Ma mi lagga troppo, mi lagga Mi lagga, mi lagga, mi lagga E pompa a leva! È tornato, tiè Ma va a cagare va! Ci provo! È mia! C'ho l'R! Let's go! Cos'è sta? Oddio questo è quello che vi dicevo! Bellissimo! Ragazzi vi faccio vedere come funziona questa bomboletta qua Allora se io a quanto pare la lancio Diventa tutto così e posso passare attraverso Nooo! Ma che figata! Guarda! Tac! E passo attraverso Bellissimo! Questo è buono quando Mettono i muri rafforzanti che si bunkerano Tu usi questo e li entri dentro Mitraglietta silenziata epica Cosa vedo nei miei occhi? E se salgo? Eeeh! Oddio! Bello! Voli! Bello! 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 Lagga di FPS in una maniera clamorosa Però non fa niente Madonna la mitaglietta Epica silenziata È devastante Aspetta Facciamo così Tac Entriamo dentro Senza rompere niente Madonna Ma Oh sono diventato tutto E ora? Ora se non mi sbaglio Se mi sparano Non mi potrei Oddio! Cosa fa Cosa ho fatto? Sono diventato una palla Mi butto Ma per quanto mi rimane questa cosa? Scusatemi Ma è normale questa cosa ragazzi? Ma mi rimane per sempre questa cosa? Ragazzi Aia! Eh lo sapevo io Mori! No! Ma che è? Doppio pompa? Ma ho usato il doppio pompa? Que... Ma è possibile che esaltate il doppio pompa ragazzi? Ma ha tirato due colpi di pompa in mezzo secondo Ho un dubbio Oh eh! Oddio l'ho hittato! Ma fa... Bello! Ma perché sta diventando così? Ah si butta questo qua sotto Ok Pensavo che c'era un altro modo No ragazzi Cos'è quest'arma? Oddio Cos'è quest'arma qui? Bello! Bello! No! Vabbè ma ragazzi Ma c'è doppio pompa Scusate No ma sei doppio... Ma no 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 Un attimo Un attimo No no C'è il double pump Nel pompa a leva ragazzi Per forza È velocissimo lui a sparare Ma come non c'è il double pump? Ma hai visto che mi ha massacrato In mezzo secondo? Eh che sta cesta? Ah ok Tutta... Guarda Allora Mitraglietta Nuova R Ok Un attimo Usiamo questo Ah il pompa è questo Oh cacchio Com'è sto pompa? Come funziona? Un attimo Io provo a tenerlo Ma non lo so sinceramente Undici No ma che è sto schifo? Ventiquattro Ma che è sta cosa? Non mi piace sto pompa Come funziona? Non ho capito Prendiamo pompa Un attimo eh Fatemi vedere Doppio pompa a leva Uno Ah minchia No no Vai proprio veloce Vai Oh 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 Via 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 Vai 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 Scappa 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 Cazzo scappa Tutti diventano delle bolle Cioè non si riesce Praticamente a giocare Cioè figata eh Però Insomma Un attimo un po' da sistemare Forse Bello Oddio 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 non l'ho ucciso io Non l'ho Ma va a cagare Oddio Va bene così dai Va bene così Bisogna capire bene come funzionano queste palline Le nuove armi Tutto Questa è stata la mia prima reazione A Primo impatto La mia reazione al primo impatto E Tutto Tutto un casino Sicuramente scopriremo molte più cose live Già da domani Sera alle 21 Ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video Ci vediamo alla prossima Ciao belli